Non ci sono elementi per la Commissione del Senato statunitense sui servizi segreti e il Presidente della Commissione, Richard Barr, a firmare insieme a Mark Warner una prima dichiarazione in base alla quale non sarebbe emersa alcuna prova del fatto che Barack Obama o chi per lui abbia dato ordine di sorvegliare Donald Trump durante la campagna elettorale, dichiarazione alla quale risponde il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Quelle che hanno pubblicato non sono conclusioni, ha detto, è soltanto una dichiarazione, non hanno nemmeno ancora avviato un'inchiesta. La dichiarazione dice semplicemente che al momento non credono che sia avvenuto, ma devono ancora valutare le informazioni. Da Londra intanto arriva una rara smentita pubblicata da parte della GCHQ, l'agenzia di intelligence britannica, nell'ambito delle comunicazioni chiamate in causa da alcune testate statunitensi per l'eventuale sorveglianza della Trump Tower.